Violazioni ambientali in un impianto di autolavaggio per mezzi pesanti sono state riscontrate nel comune di Gela nel corso di un sopralluogo finalizzato a verifiche in materia ambientale dagli uomini della Capitaneria di Porto di Gela, coordinati dal comandante Pietro Carosia con il supporto tecnico del personale del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta. Gli accertamenti erano scaturiti su impulso della Procura della Repubblica di Gela. I militari sul posto hanno proceduto a sottoporre a sequestro penale preventivo l'intera area di autolavaggio con cose e mezzi di lavoro all'interno che ha un'estensione di circa 700 metri quadrati. L'attività di scarica industriale è stata riscontrata infatti priva di autorizzazione, motivo per il quale il titolare dell'impianto è stato deferito alla Procura della Repubblica di Gela. L'operazione si è sviluppata prima di tutto da una delega d'indagine della Procura della Repubblica. Quindi noi siamo intervenuti insieme al personale del Libero Consorzio di Caltanissetta, quindi con l'ex provincia, a fare questo presso per luogo in questo autolavaggio parcheggio di mezzi pesanti. Lì questo parcheggio è sprovvisto di autorizzazione allo scarico, quindi tutto quello che è l'impianto e anche l'impianto di depurazione è stato posto sotto sequestro ed è stato poi convalidato dal giudice per l'indagine preliminare. Seguiranno successivamente ulteriori accertamenti per capire anche il ciclo dei fanghi, di depurazione dei fanghi e dell'altro liquame che viene trattato in questo autolavaggio. I danni ambientali già che si sviluppano, c'è uno scarico senza autorizzazione, quindi senza un controllo, un inquinamento anche soprattutto sul ciclo di controllo dei rifiuti. Quindi riguarda anche, siccome l'impianto poi svolgeva, cioè l'acqua depurate andavano poi all'irrigazione di piante ornamentali, comunque andavano nel terreno questi reflui non perfettamente depurati venivano poi messi nel terreno, quindi potevano anche creare dei danni al terreno e poi successivamente si poteva sviluppare anche la falda. L'idea secondo la quale l'amministrazione comunale di Gera starebbe lavorando per autorizzare ad un consorzio privato la realizzazione della rete idrica nella zona balneare di Manfria non ha mai avuto né mai potrebbe avere l'avallo di Caltacqua, Acqua e di Caltanissetta, gestore del servizio idrico integrato per l'intera provincia di Sena. La nota dell'ente gestore è chiara. Pochi giorni di distanza dalla conferenza stampa tenuta al Comune e nella quale è stato illustrato il progetto del consorzio Piano Marina che verrà gestito dalla Divina Acquedotti. Il Comune, fu detto in quell'occasione, ha concesso le autorizzazioni sulle quali Caltacqua non ha obiettato. La società spagnola, con le stesse somme del finanziamento della regione siciliana, potrebbe acquisire in seguito l'impianto, il cui progetto era sovrapponibile a quello del 2007. Ma Caltacqua, come dicevamo, dice altro. La soluzione prospettata si pone infatti decisamente al di fuori di quanto espressamente previsto dalla Convenzione di gestione con lato idrico CL6 che affida a Caltacqua la gestione dell'intero ciclo delle acque su tutto il territorio provinciale, senza dunque prevedere alcuna possibilità di deroga, men che meno offre la possibilità di creare aree dove, come nel caso prospettato, un soggetto si occuperebbe della distribuzione idrica senza alcuna garanzia in ordine alla gestione del reflui e del servizio di depurazione. La società precisa inoltre che le uniche tariffe applicabili all'utenza sono quelle determinate dal lato idrico CL6 in ottemperanza al metodo tariffario emanato dalla competente autorità nazionale e dunque non è possibile, come affermato dal Presidente del Consorzio Piano Marina, applicare ai soli residenti del quartiere di Manfria delle tariffe differenti rispetto alle tariffe che il gestore applica secondo l'articolazione tariffaria vigente e nel rispetto delle norme nazionali a tutti gli utenti della provincia di Caltanissetta, dando luogo a difformi trattamenti nei confronti dell'utenza. Sorprende, aggiunge Caltacqua, che si stia lavorando ad una simile soluzione dopo che nelle scorse settimane si era svolto l'ennesimo incontro tra Caltacqua, Atoidrico CL6 ed Amministrazione Comunale, volto all'individuazione del miglior percorso per superare finalmente quegli ostacoli tuttora esistenti che sin dal 2008 stanno paralizzando il progetto per la realizzazione della nuova condotta di Manfria. Un progetto che Caltacqua ha già pronto da otto anni e da allora è ancora intesa del perfezionamento del litro burocratico da parte del Comune di Gela per l'acquisizione delle aree. Piuttosto che inseguire improbabili soluzioni fai da te, Caltacqua auspica che il Comune di Gela e gli altri enti territoriali direttamente coinvolti diano seguito a quanto era emerso nel corso delle ultime riunioni, superando definitivamente quei residui ostacoli, a cominciare dall'aggiornamento delle stesse mappe cadastrali di alcune delle aree interessate per sbloccare definitivamente il progetto esistente riguardante la rete idrica e con questo altri interventi. Le studentesse vogliono contare il mese delle STEM e l'iniziativa organizzata oggi a Gela dal solo optimista preseduto da Maria Grazia Falconeri che si è svolta nell'aula magna dell'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Sturzo. Il progetto è del MIUR in collaborazione con il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio. È stata l'occasione per approfondire la conoscenza del territorio locale. L'obiettivo del progetto è quello di coinvolgere le giovani donne stimolando e promuovendo il loro interesse verso le scienze ed accrescendo la loro sicurezza ed autostima rispetto all'apprendimento scientifico. I lavori sono stati coordinati dalla giornalista Fabiola Polara. Noi riteniamo che le studentesse, le donne, possano affrontare questi studi in maniera egregia e anche immettersi in questo campo per cui abbiamo ritenuto opportuno appunto fare interloquire o far conoscere queste studentesse le nostre eccellenze gelesi. Sono state scelte quattro testimonial, quattro eccellenze gelesi che si sono affermate nelle professioni scientifiche e proprio per promuovere lo studio delle stesse tra le studentesse. Questo progetto ha una duplice valenza. Uno è quello di favorire l'orientamento delle studentesse, giovani studentesse, all'avvicinamento ad un percorso universitario in ambito scientifico. E l'altro è quello di far conoscere a Gela e alle studentesse oggi presenti le eccellenze del nostro territorio. Donne che dopo aver fatto un brillantissimo percorso universitario in ambito scientifico si sono affermate e ricoprono delle cariche importanti. E sono l'ingegnere Chiara Cocchiara, la dottoressa Rossella Lucà, la dottoressa Ambra Giglia e la dottoressa Angela Palumbo. Non c'è nella scelta di un'attività di lavoro il genere maschile e il genere femminile. Le potenzialità sono, le ultime statistiche ce lo dimostrano, non si può dare una spiegazione biologica alla scelta di un settore. Bensì ci portiamo molto della cultura, fin dai giocattoli che vengono proposti ai bambini già si dà un orientamento e proprio tendiamo a superare questo e alla valorizzazione della persona indipendentemente dal genere. Questo progetto è stato una sfida. Siamo riusciti con facilità a creare il contenitore perché le risorse umane fortunatamente già sono nel nostro territorio. Pertanto è stato un onore così introdurre queste giovani nel nostro sistema. Un viaggio attraverso alcune delle bellezze architettoniche della Sicilia e delle opere artistiche di ogni epoca alla scoperta di forme, volumi e materiali da compiere attraverso il tatto e la vista. È il museo tattile che oggi ha fatto tappa a Gela. Su iniziativa della sezione provinciale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti c'era anche il giardino sensoriale ed il bar al buio. Un vero e proprio polo tattile itinerante. Una giornata di sensibilizzazione, condivisione e conoscenza sul mondo della città che mira a divulgare il messaggio di integrazione possibile tra vedenti e non vedenti. Di solito le arti non si possono toccare ma si possono solo guardare. Oggi è rigoroso toccare con mano perché abbiamo delle arti che i non vedenti, magari che ne so, un monumento che magari immaginavano è riportato in rilievo e quindi diamo la possibilità ai non vedenti di poter toccare con mano una scultura o qualcosa e farsi una propria idea. Quindi dare alla gente, far capire che i non vedenti non hanno limiti, possono arrivare ovunque con le mani. Giriamo tutta l'Italia proprio a divulgare e a far capire alla gente qual è il mondo dei non vedenti proprio per far sensibilizzare la gente che i non vedenti non sono più quelli di una volta ma oggi sono abbastanza emancipati. Il motto è vietato non toccare, nel senso che qui si deve toccare tutto, si deve esplorare. Noi incentiviamo intanto una giornata di sensibilizzazione, di condivisione e soprattutto di scoperta del mondo della disabilità visiva perché c'è purtroppo poca conoscenza. Abbiamo invitato tutti, le istituzioni, le scuole, ma soprattutto le scuole perché ogni ragazzo potrebbe avere a fianco un ragazzino con la disabilità visiva quindi conoscere materiali didattici, conoscere anche gli ausili che utono il non vedente nella vita quotidiana è importantissimo. All'iniziativa di oggi hanno preso parte numerosi studenti. All'inizio ho avuto un pochino di paura perché mi tiravano, non sapevo dove dovevo andare però alla fine è stato bello perché ho capito veramente cosa si prova e le emozioni che si possono vivere in quel momento e quindi che si devono utilizzare. La vista non è per forza fondamentale ma quindi dobbiamo anche utilizzare gli altri sensi. Si è spostata a Palermo la vertenza SMIM dopo il tavolo prefettizio di ieri mattina a Caltanissetta. Se la regione finanzierà la Cassa di integrazione in deroga così come concordato lo scorso 24 febbraio al Ministero dello Sviluppo Economico l'azienda dell'Indotto revocherà la procedura di mobilità ai 115 operai coinvolti a Gela accedendo agli ammortizzatori sociali. L'assessorato regionale alla lavoro raggiunto dal prefetto Maria Teresa Cucinotta si sarebbe mostrato disponibile ad affrontare proficuamente la questione. Il vertice regionale esiterà lunedì prossimo e subito dopo saranno riconvocate a Caltanissetta le parti interessate. Ci siamo aggiornati agli esiti di questa riunione che si terrà alla regione per rivalutare la possibilità di vedere e convertire eventualmente la mobilità in Cassa di integrazione per la prosecuzione della Cassa di integrazione in deroga. E per gli operai che chiedono il lavoro possiamo rispondere che in questo momento l'Eni sta andando avanti con cantieri più operativi di quelli che sono stati finora bloccati dalla necessità di acquisire una serie di autorizzazioni che ora si sono sbloccate e quindi possono avere concrete ulteriori opportunità lavorative con l'avvio anche dei nuovi cantieri. Siamo tutti coinvolti, dobbiamo fare un lavoro di squadra, come dico io, di intesa tra tutte le istituzioni, cosa che stiamo facendo. Io ho parlato anche con l'assessore regionale, l'onorevole Miciche, che mi ha dato ampia disponibilità anche a collaborare, cioè a intervenire su questi tavoli a dare il supporto anche della regione siciliana che è un componente fondamentale nella discussione di queste tematiche. Per il Comune di Gela ieri era presente l'assessore Francesco Solenitro. Il Comune di Gela è preoccupato di questa situazione, quindi per quanto è nella sua possibilità farà il massimo possibile nella direzione di evitare che il licenziamento ci sia. Ovviamente gli strumenti in mano all'amministrazione comunale sono molto limitati, perché attiene a quelle che sono le attività imprenditoriali, sia di Eni che della SMIM come fornitore, ma anche della regione che ha la possibilità di decidere sugli ammortizzatori. Noi seguiamo con molta attenzione e molta apprensione l'evolversi della situazione. Gli stipendi dei dipendenti che non possiamo più mantenere, perché con la chiusura della raffineria sono venuti a cadere tutta una serie di ordinativi che prima sostenevano lo stabilimento e che ora non mancano. Noi aspettavamo, abbiamo mantenuto questa occupazione coperti da ammortizzatori sociali con gravissimi sacrifici e costi pesanti, pensando in una ripresa dell'attività produttiva della raffineria. Dopo il varo della riforma dell'ex provincia decisa dall'Assemblea regionale siciliana, adesso si punta decisamente al passaggio di Gela alla città metropolitana di Catania. Non soltanto Gela, ma anche Niscemi e Piazza Almerina, comuni che hanno deciso di emigrare dagli attuali liberi consorzi di Caltanissetta ed Enna. Filippo Franzone, coordinatore del Comitato per lo sviluppo dell'area gelese. La riforma appena avverata non è altro che una modifica di quello che era la legge 15. Era stato chiesto dal Consiglio dei Ministri una modifica su alcuni articoli e questa è stata fatta. Nulla implicava però il fatto che il passaggio territoriale poteva avvenire anche prima di questa modifica, può avvenire anche oggi. Insomma, il passaggio territoriale di questa riforma è legato al disegno di legge governativo che deve produrre il governatore gelese e Rosario Crocetta. Io l'appello lo faccio a tutti i luogotenenti e a tutte le persone vicine a Crocetta gelesi nel spingere appunto il governatore a produrre il più presto possibile questo disegno di legge. Diversamente saremo costretti da gelesi a dover denunciare materialmente attraverso la magistratura questa condotta che non è di certo una condotta lodevole. Dal paladino dell'antemafia, dal paladino del rispetto e della giustizia ci aspettiamo che venga applicata la legge. Non deve fare altro che applicare la legge. Dai comuni interessanti alla migrazione verso Catania sono partite più iniziative democratiche per cambiare la geografia siciliana. Ci sono già atti di diffida eseguiti. La Lantieri ci ha fatto sapere, dopo la diffida che abbiamo fatto i comitati di Gela, Piazza e Mirina e Niscemi, ci ha fatto sapere che i disegni di legge sono stati già inviati 2 ad ottobre, cioè quello di Gela e Piazza e Mirina sono stati inviati al governo ad ottobre e quello di Niscemi è stato inviato al governo il 16 gennaio. Dal 16 gennaio, ci troviamo oggi al primo aprile, credo che sia bastato abbastanza tempo, produrre un disegno di legge è una cosa che impiega pochi minuti e null'altro. Quindi vuol dire che a questo punto dobbiamo cominciare a sospettare che non c'è la volontà del Presidente della Regione. Se ne deve fare una Regione anche lui, qui le scelte sono state fatte, sono scelte democratiche e la democrazia va rispettata. Dunque sostanzialmente al momento attuale nulla osta al passaggio di Gela, Niscemi, Piazza e Mirina alla città metropolitana di Catania? Nulla osta e si deve fare il più presto possibile perché tra poco bisognerà organizzare anche le elezioni per gli enti intermedi che saranno di secondo livello, non parteciperà la popolazione, parteciperanno i consiglieri comunali e noi gradiremmo che Gela, Piazza e Mirina e Niscemi scegliessero gli amministratori della città metropolitana e non quelli ovviamente del libero consorzio di Caltanissetta. Si celebra domani la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo istituita dalle Nazioni Unite nel 2007. L'obiettivo è quello di far luce su questa disabilità promuovendo la ricerca ed il miglioramento dei servizi e contrastando la discriminazione e l'isolamento di cui ancora sono vittime le persone autistiche e i loro familiari. Secondo una ricerca condotta dal Censis, l'Italia è tra paesi europei che destinano meno risorse alla protezione sociale delle persone con disabilità. Oggi iniziativa a scuola al comprensivo Giovanni Verga. L'obiezione di sempre è che la scuola sia inclusiva, che la scuola sia aperta non teoricamente ma praticamente al dialogo, al confronto e che si adoperi costantemente per la crescita e la gioia dei ragazzi che chiaramente sono affetti da patologie dell'autismo ma non sono diversi. Sono dei ragazzi che hanno grandissime potenzialità, chi più o meglio della scuola insieme agli attori del territorio. Noi oggi siamo gioiosi di avere qui la presidenza e il direttivo dell'Aias perché è uno degli attori del territorio con cui lavoriamo quotidianamente insieme alle famiglie, insieme a tante altre associazioni che si occupano dell'aspetto ludico e della socializzazione di questi bambini. Metà della loro vita la vivono qui, quindi non possiamo non sentirci responsabili e attori attivi di questo loro processo di crescita. Non esiste una terapia farmacologica di trattamento dell'autismo ma il trattamento che si può fare su questa patologia è solo di tipo cognitivo comportamentale, un approccio multidisciplinare. Proprio per questo mi vanto di dirigere una struttura che ha un'equipo multidisciplinare e può affrontare da tutti i punti di vista questa patologia, non solo trattando il bambino o la bambina autistica ma prendendo in carico anche le famiglie che poi hanno l'onere maggiore di caricare questa patologia. Noi abbiamo un progetto che speriamo che esca il più presto possibile dal comune di Gela per fare il dopo di noi perché molti genitori, giustamente, una volta che non ci saranno più, questi ragazzi dove andranno a finire? Mentre noi stiamo cercando di creare questa casa perché il dopo di noi non sarà altro che un'accoglienza per questi ragazzi e si troveranno bene perché dal momento che hanno vissuto da bambini fino a grande dentro l'Aias continueranno a vivere con gli stessi operatori, con gli stessi assistenti, con tutto il circondario che li ha visti crescere. Per cui spero con tutto il cuore che il comune di Gela ci faccia questo regalo, di fare uscire il più presto possibile questo progetto in modo da tranquillizzare tutti i genitori che, giustamente, non sanno un domani dove andranno a finire i loro figli. Il giornalista è colui che deve riuscire a analizzare la realtà nella maniera più limpida possibile, obiettiva, quello che si cerca l'obiettività anche se non esiste. E' proprio in questa ricerca di analisi critica della realtà, quindi anche riproposizione al lettore di questa analisi che sta il bello del lavoro del giornalista. La descrive così Matteo, uno studente del liceo classico di Caltanissetta, la professione del giornalista, di colui che descrive la realtà a tutti i costi. Momenti di confronto e dibattito quelli che hanno visto coinvolti gli studenti degli istituti superiori della città ospiti di eccezione in occasione dell'Assemblea regionale dell'Ordine dei giornalisti che dopo vent'anni e per la prima volta a Caltanissetta ha chiamato a raccolta al Centro Culturale Polivalente Michele Abbate pubblicisti e professionisti siciliani insieme per l'incontro formativo sul testo unico dei doveri del giornalista accompagnata dall'approvazione del bilancio consuntivo del 2015 e di quello preventivo del 2016 così come della premiazione dei professionisti iscritti all'albo da 50 anni e 35 anni e pubblicisti con 35 anni di iscrizione. Ma probabilmente il consiglio unico da dare sarebbe quello di scegliere un altro mestiere visto i tempi però siccome mi rendo conto che i sogni dei giovani è difficile che possano essere frenati da noi vecchi certamente possiamo dire che bisogna avere molta applicazione, molta capacità di studio e molta disponibilità ad anni e anni di precariato che una volta si limitavano a decine di anni ma sono andati molto di più. di questa passione che gli aspiranti giornalisti hanno per far fare delle cose che andrebbero retribuite secondo le leggi e secondo il contratto. Riunione della Commissione Consiliare e Servizi Sociali del Comune di Gela ieri pomeriggio in concomitanza con l'arrivo del polo tattile itinerante dell'Unione Italiana Cechi che ha fatto tappa in città. L'obiettivo è quello di ottenere un report dei non vedenti ed ipovedenti al fine di incentivare i diritti ad un'assistenza maggiore e fornire un aiuto concreto. Abbiamo ricevuto da parte del Presidente l'invito a vedere questa realizzazione sinceramente avevo un po' di timore perché l'idea del buio già di per sé mi mette un pochettino di malessere però ho potuto cosciatare che con il lavoro di tutti e la partecipazione si possono fare grandi cose è stata un'esperienza al di poco bella, addirittura io direi anche disabilizzante per certi aspetti però l'ho trovata abbastanza interessante. I volontari sono di una spisitezza e di una semplicità unica questa è la gela che mi piace e che vorrei che tanti giovani si accostassero al volontariato questo con un galtosia al servizio dei, una volta si chiamavano invalidi, oggi sono diversamente abili. L'esperienza è stata abbastanza interessante oltre che a insegnarmi che il mondo dei non vedenti non è un mondo semplice, posso dire che auguro tutti i migliori auspici affinché i non vedenti possano un domani avere le stesse opportunità e la stessa possibilità dei vedenti. L'assessore comunale dei servizi sociali Licia Abela L'esperienza è incredibile, emozionante sotto tanti punti di vista perché mi ha permesso di entrare in contatto con quello che è un mondo veramente sconosciuto che per me è quello degli ipovedenti e dei non vedenti è un modo per sensibilizzare tutti al rispetto altrui per capire perché è la conoscenza che ci permette di avvicinarci in una maniera più leggera più sensibile nei confronti di queste persone che vivono questa disabilità incentivare quelli che sono i diritti che giustamente loro rivendicano ad un'assistenza maggiore e ad un aiuto sempre più concreto sia perché che riguardino tutte le fasce d'età dai bambini fino ai lavoratori e alle fasce poi ancora più anziane con l'aiuto appunto con l'assistenza domiciliare. Avvicinare i giovani alla legalità, spiegare loro quali sono le tappe più significative che caratterizzano un'indagine scientifica smascherando un crimine quasi perfetto. Sono gli studi e le ricerche portate avanti da Paola Di Simone raccontate nel libro Crimini al microscopio presentato nell'aula consigliare di Palazzo del Carmine. Indagini scientifiche per noti casi di cronaca quali il sopralluogo nel covo di Bernardo Provenzano la scomparsa di Denise Pipitone sono solo alcune delle scene del crimine descritte nelle pagine del libro del direttore tecnico, capo biologo della Polizia di Stato. Crimini al microscopio nasce come esigenza di spiegare al pubblico le differenze che ci sono tra i contenuti televisivi delle fiction tipo CSI con la realtà di tutti i giorni di chi opera in questo settore, in questo lavoro. Partendo quindi e prendendo come spunti alcune sviste che osserviamo e che vediamo nelle serie televisive delle fiction spieghiamo e spiego nel libro Crimini al microscopio attraverso casi reali come ci si muove realmente per risolvere i crimini o anche semplicemente per affrontarli nell'ambito più ampio di un'indagine di polizia giudiziaria con il supporto delle indagini scientifiche. Rigore scientifico e grande umanità è ciò che secondo il questore di Caltanissetta Bruno Megale caratterizza questo libro i cui ricavati della vendita saranno ceduti dall'autrice al fondo Piano Marco Valerio della Polizia di Stato. Oggi la scienza, nel caso di spese, la genetica forense è alla base di tutte le attività investigative il sopralluogo sulla scena del crimine tutti i dati che vengono acquisiti in una scena del crimine costituiscono la base su cui partono più o meno tutte le attività investigative. Oggi la Polizia di Stato ha fatto un investimento importante in termini di risorse in termini di apparecchiature scientifiche di nuove metodologie e di indagini in termini di formazione del personale per migliorare proprio questi aspetti proprio perché ormai la statistica ci dice che la risoluzione di questi casi non può prescindere da un approccio scientifico si è investito molto sulla qualità e sullo sviluppo di questi nuovi metodi di indagini. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!